La bolla immobiliare giapponese. La finanza amichevole, il podcast che semplifica il concetto ostico della finanza per renderlo alla portata di tutti, curato e realizzato da Alessandro Fatichi. Tra il 1986 e il 1991 si sviluppò nel settore immobiliare nipponico un'enorme bolla speculativa immobiliare. La bolla scoppiò nel 1991 causando un crollo dell'economia giapponese. Prima del periodo della crisi crebbe molto la domanda di beni di lusso e di beni immobili e di conseguenza la crisi scoppiò a causa dei troppi prestiti concessi a basso tasso di interesse. Il valore dello yen ebbe una crescita fino al 10-12% e nello stesso periodo addirittura il reddito reale delle persone si mantenne con una crescita anche superiore al 6%. In questo modo le imprese immobiliari iniziarono a speculare molto sul mercato, anche perché si credevano molto forti economicamente di quanto poi lo erano in realtà. E tutto ciò venne anche permesso, se vogliamo, dalla banca centrale di Tokyo, poiché ritardò quelli che erano i cosiddetti provvedimenti per fermare quella che poi è stata la creazione della bolla. Quello che doveva essere anche un piano fiscale per limitare l'eccessiva speculazione e che doveva appunto funzionare tra il 1989 e il 1990, venne posticipato proprio per i motivi dell'incertezza economica scoppiata dopo il lunedì nero del 1987. Un ulteriore problema fu la ratifica dell'accordo di Louvre e che aumentò quello che fu lo scoppio della bolla, in quanto stabilizzò molto il rapporto con il dollaro americano. Questo accordo appunto fece sì che il ministro delle finanze non poté attuare quella che era la politica che avrebbe appunto favorito la valuta americana, e quindi lasciando ogni responsabilità di politica monetaria alla banca del Giappone. Sommando tutti questi fattori, causati anche dalla liberalizzazione delle regole finanziarie, contribuirono già appunto dal 1986 a quello che fu lo sviluppo della bolla, sia sul mercato immobiliare che sul mercato finanziario. Partiamo dall'inizio. Nel 1987 quello che era il reddito delle persone in Giappone superava addirittura quello degli Stati Uniti. E addirittura il 29 dicembre 1989 l'indice Nikkei della borsa raggiunse il suo massimo storico toccando 38.915 punti. E tutto questo diede un po' l'impressione che il Giappone esistesse apprestando a diventare la prima potenza economica mondiale. Però tuttavia la bolla appunto partita dal mercato immobiliare scoppiò nei primi mesi del 91. Bank of Japan, nel tentativo anche di adottare una politica più regolare sul bilancio, aumentò i tassi di interesse. Quindi si arrivò un po' a quella che fu l'impossibilità per gli istituti bancari di dare prestiti a causa anche delle insolvenze dei clienti dopo che appunto erano stati rialzati i tassi. E neppure quello che fu poi il pignoramento dei beni che erano stati dati alla banca come garanzia fu sufficiente poiché la maggior parte di essi avevano perso buona parte del proprio valore. Quindi i capitali andarono in fumo a causa del crollo dei prezzi nel settore immobiliare, nel settore finanziario perché ovviamente le ripercussioni furono anche sul mercato azionario e addirittura tutto ciò corrispondeva a quello che era il 2,4% del PIL giapponese. Lo scoppio causò quella che fu il calo della domanda soprattutto sul settore immobiliare e l'indice della borsa, da 39 mila punti quasi, crollò fino a 15 mila nel 92. Questo portò anche un po' all'applicazione di, se vogliamo, situazioni e pratiche finanziarie non particolarmente brillanti da parte del governo giapponese come quello che fu il risarcimento ai grandi investitori. Di conseguenza negli anni a venire l'indice della borsa recuperò intorno ai 20 mila punti ma tutto quello che riguardava gli immobili subì un grosso contraccolpo. Per esempio gli affitti anche a Tokyo ebbero un ribasso superiore al 20% e gli investitori anche esteri nel settore immobiliare diminuirono anche in maniera drastica. Di conseguenza quello che fu anche il valore degli appartamenti ebbero praticamente un crollo del 70% rispetto a quelli che erano i valori negli anni 80. Questo che cosa comportò? Che le banche non riuscirono a fermare l'indebitamento perché non sfruttarono nemmeno quelle che erano le agevolazioni fornite dalla banca del Giappone che permetteva di aumentare la capacità di prestito degli istituti bancari e quindi i loro capitali continuavano a diminuire. Per provare a limitare i danni si cominciò a rifiutare il rinnovo dei prestiti ai clienti. Quindi le ripercussioni più grosse furono sulle piccole imprese, sui privati e soprattutto per quanto riguarda le imprese iniziarono i fallimenti con un aumento vertiginoso. Questo portò anche a un aumento esponenziale della disoccupazione che nel 1995 arrivò al 3,2% della popolazione, un valore estremamente elevato per l'economia giapponese. Di conseguenza le grande imprese iniziarono a spostare le proprie sedi e spostandosi anche in quelle che erano le nazioni vicine al Giappone. E questo ovviamente portò un ulteriore aumento della disoccupazione. Questo non fece altro che far arrivare il Giappone ad un periodo di deflazione che addirittura è durato più di 10 anni e che questo periodo appunto viene ricordato come il decennio perduto con una crescita del prodotto interno lordo che non era superiore all'1,5-1,6% e nettamente inferiore al più 4% degli anni 80. Il governo giapponese non prese questo problema in considerazione in maniera corretta fin dall'inizio e sottovalutò anche questo periodo di deflazione. Tra il 92 e il 95 il governo approvò delle manovre finanziarie che però non furono efficaci, anzi tutt'altro. Addirittura permise anche alle banche di mantenere in vita anche grandi aziende che erano fra virgolette ormai sull'orlo del fallimento e che erano appunto considerate troppo grandi per fallire. Successivamente ci fu un periodo di ripresa. Grazie anche a quelle che poi furono delle politiche fiscali adottate per poter sostenere il mercato e per evitare quello che poteva essere un fallimento degli istituti bancari. Nel 97 furono aumentate le aliquote delle imposte indirette e questo causò un ulteriore periodo di recessione e che portò anche al crollo di grossi istituti bancari. Oltretutto, nello stesso periodo, la crisi del sud-est asiatico influenzò ancora di più quella che era la crisi del Giappone. Diminuzione delle esportazioni giapponesi verso i paesi limitrofi e che ovviamente erano un forte contributo al PIL del Giappone e conseguentemente il paese delle sollevante fu costretto a convivere con questa recessione che addirittura è durata fino ai primi anni 2000. Se vogliamo analizzare questo periodo, la fine di questa crisi partita appunto da metà degli anni Ottanta si è avuta grossomodo nei primi anni 2000 con la crescita del PIL giapponese che si è attestato al 3,2% nel 2006 e che questo fu un po' lo spartiacque per definire quella che è la fine del decennio perduto. Ma successivamente, il periodo 2007-2008 con la recessione che si è sviluppata appunto in America con i problemi finanziari ha colpito ulteriormente il Giappone e che addirittura nel 2007 vide il PIL con una crescita praticamente a zero. E di conseguenza quello che è stato definito il decennio perduto nel periodo 91-2001 può essere allargato anche al successivo periodo del 2011-2013. E il 2013, con un supporto da parte del governo Abe sulla politica economica, il PIL ha registrato una crescita dell'1,9% superando le attese e se vogliamo uscendo definitivamente dalla crisi. Una crisi nata nella metà degli anni Ottanta ha visto il suo termine reale nel 2013. La citazione di oggi è la seguente. L'uomo che si basa sulla speranza sicuramente perderà mentre l'uomo che si basa sulla scienza farà dei profitti. William Gunn Rendiamo la finanza amichevole? Vi aspetto! Potete ascoltare questo podcast sulle principali piattaforme disponibili. I quartieri delle nostre città sono ricchi di storie come quella della famiglia Galluzzi che porta avanti la sua piccola bottega di pesce dal lontano 1894 o come quella di Viviana che con la sua pasticceria aiuta tante donne vittime di violenza. Sono Petra Loregian e insieme ad American Express ho avuto la fortuna di incontrare alcuni piccoli esercenti che hanno reso grande il nostro paese. Scopri le loro storie nel podcast Shop Small Great Stories.